Tantalo e Pappacena dopo la vittoria del Montecitorio per 3-1 contro il Club Sport Roma. Partita intensa, nel secondo tempo anche a rischio rimonta da parte della squadra avversaria. Però siete state brave a tenere in mano le redini del gioco e a portare a casa questi tre punti. Un giudizio quindi su questa prestazione? Sì, è vero. Come hai detto tu, il primo tempo 2-0, quindi eravamo più tranquille. Poi abbiamo rischiato un po' nel secondo, loro sono molto brave, sono molto fisiche, corrono tanto, non hanno mollato mai. Sul piano anche fisico noi siamo anche, penso abbiamo almeno una dundicina, almeno io, di anni di più. È stato faticoso, quindi complimenti a loro, però sono contenta di noi perché siamo riusciti a tenere tutta la partita e stiamo migliorando sul controllo, sulla gestione della partita a lungo. Primo e secondo tempo e secondo me sta andando molto bene. Sì, seconda vittoria consecutiva, tra l'altro in campionato, vi sentite nella giusta condizione di forma o pensate di poter ancora migliorare, dare ancora di più? Si fa sempre meglio. Vero? Sì, sì. Dobbiamo essere ancora più ciniche sotto porta, possiamo migliorare fisicamente, no? Da migliorare con l'allenamento c'è sempre, non ci fermiamo mai, quello sicuro. Vero?